Sono passati dieci anni dalla conclusione del Sinodo Diocesano e il Comitato Pastorale Cattolico Generale, che riunisce i fedeli della Palestina, della Giordania e di Israele, si è riunito a Betlemme per fare il punto della situazione e dare ulteriori indicazioni sull'attuazione del Sinodo. È un comitato che si raduna ogni anno durante tre giorni e fa il programma pastorale della Chiesa per le Chiese Cattoliche durante quell'anno. È un risultato del nostro Sinodo Pastorale che abbiamo celebrato negli anni 90 e che abbiamo concluso nel 2000. L'incontro di quest'anno si è svolto sul tema Il Cristiano nella vita pubblica. È un tema scottante per se stesso e per la situazione particolare di questa terra. Basti pensare alla dimensione politica, economica e culturale in cui il cristiano è coinvolto. Nella politica, naturalmente, noi non abbiamo, come dice l'espressione famosa, divisioni, non abbiamo esercito, non abbiamo una presenza numerica, quantitativa, politica abbastanza grande, però abbiamo dei valori da proporre, i valori della giustizia, della pace e dell'uguaglianza tra tutti i cittadini e il valore del bene comune. E penso che dobbiamo lavorare molto per aiutare i nostri cristiani a impegnarsi in questo campo. Il secondo campo è l'economia. Non nel senso di possedere tanto o poco, non nel senso dei regimi capitalisti o socialisti o quello o quell'altro, anche questo naturalmente non dobbiamo dimenticarlo, ma soprattutto vogliamo insistere su come usare i beni che il Signore ci ha dato. E il terzo punto, nel quale forse siamo abbastanza forti, che è abbastanza classico, che è abbastanza radicato nelle nostre tradizioni cristiane, è la cultura. Ma la cultura non accademica, di quali si è già parlato molto e per la quale abbiamo già lavorato molto tramite le nostre scuole, le nostre università e tutti i nostri istituti, ma soprattutto come dare uno spirito cristiano alla nostra cultura, cioè alla nostra vita quotidiana. Soprattutto faccio riferimento all'internet e a tutti questi mezzi della televisione e del computer che oggi hanno una globalizzazione assolutamente dominante e che non dobbiamo trascurare, anzi, vogliamo farci che questi strumenti siano strumenti di redenzione e dunque una volta redenti che possono essere veramente buoni per la nostra missione di Chiesa. La presenza cristiana nella vita pubblica è compito in modo speciale dei fedeli laici. Credo che ogni laico cristiano abbia un ruolo assai importante nell'ambito politico, culturale, economico e sociale, perché il clero non può essere presente allo stesso modo. Il laico invece è coinvolto in settori particolari quali il lavoro, l'ambiente e la società e il suo ruolo di testimone di Cristo è insostituibile nella comunità in cui vive e nel posto di lavoro. Grazie. 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 Grazie.